Anche nelle situazioni in cui sembra sbagliare e qui sicuramente aveva sbagliato Snow, sente il fischio, manda per aria il pallone, da lassù gli dei del basket lo premiano visto che gioca con la caviglia fratturata, potenziale gioco da tre punti, più 14 Sixers. Si stanno vedendo cose che sinceramente non ci aspetteremo, questa è una caviglia fratturata, Fischer gli tocca quella palla, io questo fallo non so se ci fosse o meno, so che c'è però un gran tiro di Snow e la potenzialità per un gioco da tre punti, Fischer va in panchina, entra Tyrone Lu. E evidentemente Phil Jackson è disperatamente alla ricerca di quello che Fischer gli ha dato e gli ha dato a ripetizione in questi playoff a questo punto della partita, Fischer è veramente un non fattore, zero punti, tre falli, zero su quattro dal campo, clamoroso, siamo a ridosso degli ultimi cinque minuti del terzo quarto.